La terza e l'ultima parte della nostra rassegna sportiva, ancora un'ampia pagina dedicata a Juventus Roma, in questo caso anche affidandoci a dei numeri. Torniamo online, facciamo attraverso il portale laroma24.it che attraverso un'ampia analisi analizza i temi numerici, tre vittorie dei giallorossi negli ultimi 22 precedenti in A, cinque sconfitte per la Roma allo Juventus Stadium, questi alcuni dei tanti numeri che accompagnano il match. La Juventus ha perso solamente tre delle ultime 22 sfide in A contro la Roma, uno dei quali nella passata stagione, 14 vittorie e 5 pareggi. Bianconeri invece hanno vinto tutte e cinque le sfide della Juventus giocate in Serie A proprio allo Stadium contro la Roma, 15 gol segnati e solo tre subiti dai piemontesi in questo parziale. In 21 delle ultime 22 partite di Serie A contro la Roma la Juventus ha segnato almeno un gol, l'unico clean sheet, giallorosso risale all'1-0 del febbraio del 2013. La Roma invece ha vinto nelle ultime dieci partite otto gare, un pareggio e una sconfitta, considerato solo il parziale in Serie A, i giallorossi hanno ottenuto più punti di tutti, 25, uno in più della Juventus. Ancora altri numeri che accompagnano questa sfida. Paolo Di Bala ha segnato esattamente un gol in ognuna delle ultime tre gare giocate contro la Roma in Serie A, tra cui le due con la maglia della Juventus. Rajan Angolan ha segnato per la prima volta in carriera in due gare consecutive di Serie A tre dei suoi ultimi cinque gol nel massimo campionato, inclusi nelle ultime due, sono arrivate da fuori aria. Tanti numeri che si incrociano, come tanti incroci che riguardano anche in qualche modo il valore tecnico insito in quanto tale dei giocatori. Ed ecco perché anche la Gazzetta si getta in una sorta di paragone ruolo per ruolo. Da Pianiccia e Sciaraui, da Iguainaggeco, la sfida ruolo per ruolo con una sorta di voto dedicato ai protagonisti. Da Buffon a Scesni tre palle ad esempio, come anche naturalmente i difensori. Da Alex Steiner a Rudiger, da Rugani a Manolas, ovviamente poi si va avanti con Chiellini Fazio, Alexandro Palmieri, Kevin Strottmann e Chedira, davvero top player uno dietro l'altro. Marchiso e De Rossi, forse una delle sfide più suggestive, anche con un sapore italico diverso. E poi Sturaro Nainggolan, oppure Pianic, l'ex di turno che in qualche modo viene paragonato a El Sciaraui di Bala. Perotti, classe argentina a confronto. E poi naturalmente Gonzalo Iguain ed Ingeco. Questo sondaggio per il momento sta andando evidentemente a vantaggio di Iguain. Vedete 82% contro il 18%, disparità evidenti. Vediamo poi come andrà in campo. Naturalmente il distacco maggiore per il momento lo prende la sfida Buffon-Scesni. Il 90% dei votati preferisce il capitano della Juventus e della Nazionale. In questo confronto non entra Francesco Totti perché naturalmente parte la pacchina dopo i numerosi acciacchi anche le febri delle ultime ore. La Roma però, secondo Zeman, prende il tifo e tutto il resto di palla. Lui è favorita, ma qui il tifano Rom di Petrico Boemo per il mercato fatto estate. I bianconeri sono in vantaggio, però i giallossi possono ottenere vivo il campionato. Zeman ha 69 anni. Negli scorsi anni si è lasciato benissimo con la Roma vs. Rift. Ma evidentemente tra due ha un amore diverso per la Roma rispetto alla Juventus. Che attaccò anche nel passato durante un lungo procedimento che tanti straci poi ha lasciato. Altri personaggi che lasciano appunto un tipo in questa partita sono i difensori. Da Chilin Rubani a Bonucci, un muro della Juventus. Però quest'anno non sembra più possibile ricabile. 8 delle 35 e i bianconeri in campionato sono per arrivare dai difensori. Però prese l'arma in più della capitalista è anche una difesa che sta subendo anche più rispetto al passato. Cioè dire che, come anche per la Roma, anche la Juventus ha avuto difficoltà quest'anno a poter mettere una difesa sempre fissa. Forse della Roma ancora di più, però ha avuto perdere quattro campionato. Metà difesa ai box, una difesa che adesso è recuperata. Di questa partita è inapparato bondantemente anche Fabio Capello, partendo da un retroscena. Volevo Ibra già a Roma. Buffon aveva delle fobie per le vespe e poi naturalmente una ampia pagina dedicata a Cannavaro e a Alex Del Piero. A Roma ha detto ero esauso, dopo cinque anni è impossibile continuare. Ero davvero esauso per questo. Ci fu questo incontro con Moggi Giraudo a Milano e fumo subito d'accordo su tutto. Dal mercato al fattore economico, perciò ci accordammo subito. Non c'era tanto da lavorare, dovevo solo fare l'allenatore. E questo in quel momento per me era fondamentale. Non solo Ibra, volevo portarlo alla Roma, ma poi appunto lo ha allenato alla Juventus. Non solo Ibra appunto perché ci fu il colpo Cannavaro, un colpo da maestri fu l'arrivo di Cannavaro alla Juventus. Se dice appunto Capello, elogiando un minore aiola che fece di tutto per convincere lo scambio appunto l'Inter all'epoca. Tanti personaggi, come ad esempio anche Zibi Boniek, che ha vestito entrambe le maglie. Le maglie prima della Juventus e poi della Roma. È stato anche passato al centro di alcune polemiche perché la sua stella allo Juventus Stadium è stata sottratta proprio per il suo affetto nei confronti della Roma. L'ex campione polacco dice che la Roma contro la Juventus è all'ultima spiaggia. Deve vincere se vuole tenere aperto il discorso campionato. Ma la Juventus è favorita per lo scudetto evidentemente anche se la Roma può ancora giocarsi le sue armi. Con la vittoria contro il Milan i giallorossi hanno avuto un passaggio importante ma non hanno giocato una grandissima partita. La Roma deve impostare la gara sulla velocità offensiva, sulla rapidità. Anche se la Juventus in casa in questi anni è stata praticamente imbattibile. Come abbiamo anche visto dai numeri poc'anzi, è chiaro, dice che la gara di sabato è l'ultima spiaggia per la Roma e per tenere aperto questo tipo di campionato. Ancora altri personaggi, in particolar modo c'è Mohamed Salah che è tornato a tempo di record ad allenarsi a Trigoria. Si candida addirittura per un posto da titolare o comunque da subentrante nel big match sabato sera contro la Juventus. Salah che aveva subito un infortunio molto grave, sembrava dover recuperare soltanto a gennaio inoltrato quando poi avrebbe dovuto lasciare Trigoria per andare in Egitto con la sua nazionale e preparare la Coppa d'Africa. In realtà, come si vede da queste immagini, un sorridentissimo Salah, anche molto concentrato con tutti i crismi, si è allenato e mira ad essere pronto per essere chiamato da Luciano Spalletti in questa partita. Naturalmente sarà titolare Wojciech Szczesny, il portiere polacco che ha parato nella scorsa partita contro il Milan un rigore a Niang. Per lo scudetto dice noi ci saremmo fino alla fine, conosco Pjanic e le sue punizioni alla perfezione. Tanti tifosi della Roma sperano che non capiti la possibilità per Pjanic, una punizione per non subire il classico gol dell'ex. Ma il portiere polacco si dice pronto, sarà un bel duello intenso, forte e divertente. Le vittorie contro Lazio e Milan in sequenza hanno aumentato le nostre certezze. Per lo scudetto ci siamo anche noi e ci saremmo fino alla fine, qualunque sia il verdetto di domani, dice il portiere polacco. Sempre un personaggio sopra le righe con la sua capacità di parlare fuori dei denti e senza alcun problema, anche legato alla scaramanzia. Poi le due squadre dopo essersi contese in campo si contenderanno anche obiettivi di mercato. Uno è Rincon, per il momento sembra addirittura la Roma in vantaggio, ne ha parlato anche Juric. La Juventus invece si concentra sui rinnovi, adesso tocca a Dybala e poi a Bonucci, due pilastri per la Juventus. Una Juventus che naturalmente poi penserà anche al futuro perché è sempre più vicino Axel Witzel, che era stato avvicinato dalla Roma anche in tempi non sospetti. Naturalmente le due squadre si affronteranno in campo, noi però per il momento abbiamo risaurito il tempo a nostra disposizione, torneremo a parlare di questa partita nelle prossime edizioni della nostra rassegna sportiva. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.